Mi sono appena svegliato, apro stancamente le palpebre e lascio quella luce che filtra dei buchi della persiana, mi segnali che sta iniziando un nuovo giorno. Penso, penso sempre ogni mattina, lo faccio sempre appena sveglio. Faccio sempre le stesse cose, quasi avessi il pilota automatico, mi alzo da letto, mi alzo da letto in fretta, già stanco dalla giornata che mi aspetterà, ingurgito un caffè velocemente, indosso la prima cosa che trovo, che trovo nell'armadio e vado ad impegnarmi nel lavoro, nel mio lavoro, dove il più delle volte non mi sento apprezzato per quello che faccio. Tutti i giorni quindi lo stesso copione si ripete, incapace di pensare che esiste la possibilità di cambiare le cose. E invece di subire la nostra vita, decidessimo di prenderla in mano e decidere noi come vivere la nostra giornata. Non sarebbe più interessante il discorso, non sarebbe meglio. Cambiare certo è difficile, ma non impossibile. E quindi, nonostante questo, io continuo a dire, uffa, un'altra giornata, un'altra giornata di lavoro uguale alle altre, le solite cose da fare. È inutile girarci intorno. Certe cose e persone non si possono purtroppo cambiare. Vorremmo un lavoro diverso, colleghi diversi, ma abbiamo scelto di rimanere perché ci sono le bollette da pagare e il lavoro che abbiamo in questo momento ci permette di mantenerci. In questi ultimi anni ho capito che le situazioni non si possono cambiare, ma il nostro atteggiamento verso le cose sì, certamente, il nostro atteggiamento verso le cose sì che si può cambiare.